60 seconds del giovedì sera, cari amici, oggi si è tornato a far sentire come Silvio Berlusconi innanzitutto ha ripreso mica poco la Gelmini sulle questioni interne al partito eccetera, ma soprattutto, visto che lui punta ad essere candidato per il Quirinale da tutto il centrodestra, su questo ormai non c'è il minimo mistero da parte dell'ex presidente del Consiglio naturalmente, ha spedito al mittente la proposta di Mario Draghi al Quirinale nel prossimo fine inverno quando appunto si dovrà eleggere il nuovo presidente della Repubblica, una volta scaduto il settennato di Sergio Mattarella. È evidentemente funzionale ai propri scopi il volere Draghi a Palazzo Chigi, ma chi segue questo spazio, chi segue la ragione, domani ne dicono, ci ritroviamo, già tra poche ore avrete il numero della prossima giornata su www.laragione.eu, sa quanto noi si tifi per Draghi, altre motivazioni comunque, come dire, eterogenesi dei fini, si tifi per Mario Draghi a Palazzo Chigi fino al 2023 e al Quirinale, vediamo, personalmente io sarei per una proroga ai due anni di Sergio Mattarella, in modo come dire da disinnescare anche tutto un movimento politico che in pieno Next Generation EU forse sarebbe il caso di evitare, ma staremo a vedere, a domani.